Il 17 dicembre a San Cataldo al Teatro Marconi, una giornata magica con il quinto festival della magia Centrosicula e naturalmente parteciperai anche tu Luca Piazzi. Quinta edizione io presento quest'anno di nuovo dopo tre anni di assenza, una giornata magica fantastica dove tanti prestigiatori si esibiscono, dove tanti prestigiatori stiamo insieme per parlare, scherzare, condividere momenti magici in questa giornata magica. Ci sarà uno spettacolo finale per tutti, due conferenze di due grandi maghi, Roberto Lonigro che parlerà di mentalismo e comunicazione e poi un grande costruttore Angelo Milazzo, il Z direttamente da San Cataldo. L'appuntamento è per il 17 dicembre alle ore 20.30, un appuntamento per tutti gli appassionati di magia, amatori, professionisti e chi si vuole avvicinare nel fantastico mondo dell'illusionismo. Esatto, lo spettacolo sarà di soli 3 euro, la giornata basta contattare, potete trovarmi alla pagina Facebook Magia Centrosicula, potete chiamarmi e richiedere informazioni per quanto riguarda la giornata magica. Delizierei allora il pubblico con qualche incantevole tua interpretazione. Sì, certo, io ho diversi numeri di magia e sarà una sorpresa, appunto il giorno 17 ci saranno tanti altri maghi ovviamente oltre a me, io condurrò la serata e in più ci saranno questi amici miei, colleghi, maghi. Tu sei anche un prestigiatore per matrimonio, un animatore in poche parole, dove anche in questo caso non manca far divertire con la sana autoironia. Sì, ovvio, io scherzo molto su di me, intrattengo il pubblico non solo con la magia, quindi per chi mi volesse contattare sono sempre a disposizione e sono qua. Prossimamente ti vedremo anche su Italia 1. Pure su Italia 1 insieme a Teo Mammuccheri, cultura moderna, vi aspetto, prossimamente guardatevelo sempre Italia 1, farò grandi magia.